allora dicevo parliamo di amicizie in generale io volevo chiedervi oltre a voi della futura volley delle vostre compagne così negli anni nell'amicizia nella pallavolo si parla sempre di cioè so che voi siete molto affiatate molto amiche da tantissimi anni c'è magari qualche altra vostra ex compagna o di b1 di a1 di a2 che sentite spesso magari ci avete una chat su whatsapp che siete un po io non lo so in generale ma noi abbiamo una chat a3 pazzesca insieme a sicilia nicolini che è il palleggiatore adesso gioca attualmente a off anengo in b1 con cui abbiamo fatto sia i due anni di lodi che l'anno di settimo torinese e con lei diciamo che noi tre abbiamo convissuto insieme un anno e abbiamo legato molto ma poi tutte le amicizie nate un po nello spogliatoio sono destinate a durare tanto insomma che ti conosci veramente ti conosci tanto passi tanto tempo assieme e alla fine se ti piaci non riesci più a staccarti no eh beh sì certo anzi salutiamo Cecilia se ci stesse mai ascoltando sicuro che è collegata speriamo di sì però purtroppo scusate ragazzi questo è il bello anche della diretta c'è la regia che mi dice che abbiamo un piccolo problema tecnico e deve venire un attimo in onda perché non si sente bene l'audio regia ci puoi dire cosa fare sì ditemi pure mi aiuto volentieri meno male serena che mi hai nominato subito perché non è stata da aggrabbiarmi ciao Sema ciao Sema sono qua da mezz'ora che vi ascolto nascolta eh ragazzi non ci siamo neanche messi d'accordo ma sono successi no infatti pazzesche cioè dai sei stata bravissima eh non ci hai detto niente ragazze io direi Maria De Filippi chi in questo caso direi che la sorpresa è venuta bene quindi meno male eh infatti quando Aldo mi ha spiegato come sarebbero andate le cose detto sì ma se non mi nominano cioè magari un'altra amica cioè a parte che ci sarei rimasta malissimo e poi non sarebbe venuta sorpresa ma meno male sere dai che ci sono venuta in mente subito prego eh prego grazie grazie beh io vi lascerei parlare per ore andrei a preparare i poccorni comunque ah beh ce ne sarebbero da raccontare ma tra l'altro quando hai fatto una puntata di scandal poi è finita cosa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti